Musica Con la voce di Rossella Ferrari con questo bellissimo brano Nell'attesa che ci porti anche il brano saremese che sappiamo hanno preparato a quattro voci Davvero interessante E subito dopo arrivano l'orchestra degli Area 22 con Bang Buon martedì Sirta Cumbia Attrodite la dea dell'amore Dai Luigi 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Vito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci sono. perché a tutti. innamorami. perché a tutti. innamorare. innamorami. di te. e non mi ha detto,